raggiunge la quota necessaria, ecco, prima presa di velocità, velocità, wing over, seconda presa di velocità, risale, secondo wing over, durante la picchiata questi mezzi raggiungono sicuramente velocità superiore di 100 euro, questo era un loop, questo è un wing over con rotazione, molto bello, Andrea è molto elegante e veloce nella sua esibizione, altro wing over, forse è un loop in da qui, in una costruzione non si riesce a capire, siamo fuori asse, questo è un loop sicuramente eccellente, velocità, questo è un altro loop, sommità lento, presa di velocità, vediamo come si manella il programma di Andrea grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti